Se lo spazio è l'incubo peggiore, il nuovo Ford Tourneo Custom è la vettura più indicata. Lo abbiamo provato nella variante omologata per il trasporto passeggeri, che offre fino a nove posti. La versatilità è ovviamente il piatto forte e anche la guidabilità sorprende, paragonabile a quella di un ingombrante monovolume. Insomma, le dimensioni non spaventano, anche se allenare l'occhio agli ingombri resta un passaggio obbligato. A muovere il Tourneo Custom ci pensa un'unità diesel da 2 litri di cilindrata, che in casa Ford hanno deciso di declinare su tre differenti potenze, da 105 a 170 CV. Un motore che fa parte della nuova famiglia Eco Blue e che va a sostituire il vecchio e rumoroso 2.2 TDCi. La variante più potente regala le stesse prestazioni di un'automobile, con consumi medi dichiarati di circa 16 Km per litro. La velocità massima è inchiodata sui 180 orari, dato che non stupisce, mentre l'elevato dato di coppia permette di muoversi con elasticità anche alle basse velocità. Chiudiamo con qualche dispositivo elettronico che avvicina ancor di più quel che nasce come veicolo commerciale al mondo automotive. Si va dal Cruise Control adattivo, che mantiene la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, per arrivare al sistema di riconoscimento dei segnali stradali.